Ora facciamo una folk, con l'armonica. Allora mi ha detto di presentare che la chi che viene in banda è che suona il flauto alle mie di, che però suona si chiama Gianni Cattaino. Applauso! Buongiorno! In banda... Buongiorno, come se ne ho dopo si gasta! In banda invece è Lorenzo Bianchicuota, il basso. Alla veniva su di re mangiare con una macchina che non mi usisci. Da ora di me è che il mat di Franco. Franco Stocco, batterie! Bruno Cimenti, Supersonic. E io sono sempre il primo. Strawling! E voi atti sei scherzato, ma siamo insieme, no? No! E voi atti sei scherzato. Buongiorno, Dionini fa pure musica, se no. Allora... Unetti alzio per dormire che ti è. Buongiorno! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.